Buonasera e benvenuti all'edizione delle 19 di G News. Apriamo con la cronaca in Abruzzo, andiamo a Giulianova. Nuovo sequestro per un centro massaggi gestito da cinesi. Nella giornata di ieri i carbinieri coordinati dal luogotenente Marino Capponi hanno fatto eruzione in un esercizio commerciale di Via Nievo, bloccando l'attività del centro estetico gestito dagli orientali. Vediamo il servizio. E' stato sequestrato un centro massaggi gestito da cinesi in Via Nievo a Giulianova Lido, all'interno del quale si svolgevano anche attività di prostituzione. Lo hanno scoperto i carabinieri della compagnia di Giulianova, che ieri hanno fatto eruzione nell'esercizio gestito da due cinesi, marito e moglie di 40 e 30 anni. I militari avevano avuto sentore che al centro massaggi si facessero, in realtà, anche altre attività. Per questo avevano avvicinato alcuni clienti, quali avrebbero ammesso prestazioni particolari, oltre a quelli normalmente forniti da un centro relax. Ieri è scattata la perquisizione di iniziativa dei carabinieri, che hanno sequestrato il centro, e 11.000 euro. Durante l'interrogatorio dei coniugi cinesi, denunciati per sfruttamento della prostituzione, è emerso che le prestazioni fornite dalle due collaboratrici asiatiche avvenivano senza precauzioni, esponendosi così a rischio malattie. Sempre secondo le prime risultanze investigative, sembra che il riscuotere a procacciare le lavoratrici fosse la moglie. A volte, le ragazze si presentavano esternamente al locale, in ambiti soccinti, per attirare i clienti. E andiamo ad Ancona. Il giovane ha tentato il suicidio, buttandosi dal passetto perché senza lavoro. Lo ha raccontato lui stesso al padre, dopo essersi ripreso. Il giovane anconetano, 29 anni, nella notte tra martedì e mercoledì, si era lanciato dalla balconata che precipita sulla spiaggia cittadina. La fitta vegetazione sotto il muraglione ha attutito la caduta dopo un volo di oltre 10 metri. Il giovane se l'era cavata senza gravissime conseguenze. Il ragazzo, hanno reso noto gli stessi familiari, pur essendo laureato, non è riuscito a trovare lavoro in nessun modo. Nessuna azienda aveva risposto ai suoi curriculum. Da qui l'insano gesto. E andiamo a Pescara. L'auto di un agente immobiliare di 40 anni è stata raggiunta nella notte da 4 colpi di arma da fuoco in Viale Primovere. A Pescara è un Range Rover bianco che era parcheggiato in strada sotto casa dell'uomo ed è stato colpito sulla fiancata anteriore sinistra. L'allarme è stato lanciato al 113 da un vicino che ha sentito i botti, ma affacciandosi dalla finestra non ha visto alcun che. La vittima è stata avvertita dalla polizia. L'uomo sposato e con figli ha riferito di non avere sospetti e di non aver ricevuto minacce. Sono in corso accettamenti a tutto tondo sia sulla vita personale sia professionale del quarantenne da parte della squadra mobile diretta da Dante Cosentini. Sul posto anche la polizia scientifica per i rilievi finalizzati a capire che tipo di arma sia stata usata. Sicuramente di grosso calibro. Ovviamente l'auto è stata sottoposta a sequestro. Andiamo a Senigallia. Brutta caduta per una ragazzina sulla pista da motocross di Sant'Angelo nella tarda mattinata. La sedicenne è stata soccorsa da un'eliambulanza e portata all'ospedale Torrette di Ancona in condizioni di media gravità. Dalle prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita. L'allarme è scattato intorno alle 12 quando la sedicenne è caduta rovinosamente a terra affrontando un percorso piuttosto accidentato. Ed ora a San Benedetto la lotta al commercio abusivo fa registrare numeri record. La polizia municipale mette le mani su 595 custodie per cellulare di vario tipo vendute irregolarmente. L'azione dei vigili è avvenuta lungo Viale Buozzi in pieno centro cittadino. Sono state individuate anche 6 pennette per cellulari e 2 mazzi di pellicole salva schermo. Un'operazione del genere può rappresentare un buon viatico in vista del ritorno della bella stagione, periodo durante il quale lungo la riviera si assiste ad un incremento vertiginoso del commercio abusivo, sia tra le principali arterie urbane sia in spiaggia. L'arenire in particolare diventa un vero e proprio mercato a cielo aperto dove è possibile trovare di tutto. E a Sant'Elpidio, a mare, doppio incidente nel giro di poche ore al principio e alla fine della strada Cocciari. Entrambi per fortuna non hanno provocato gravi conseguenze. Il primo è avvenuto intorno alle 8 e ha visto protagonista un'utilitaria che dopo aver percorso la ripida discesa, complice l'asfalto reso viscido dalla pioggia, ha perso aderenza e non è riuscita a fermarsi allo stop. Il conducente ha ortato la fiancata di un mezzo furgonato di passaggio, illesi entrambi gli automobilisti, così come quelli che poco più tardi si sono scontrati per un caso di mancata precedenza. A Monte, allo sbocco di strada Cocciari, in piazzale Marconi, a pochi metri dal monumento ai caduti. In questo caso, forse a causa della scarsa visibilità, un'auto si è immessa nella circolazione, mentre un'altra sopraggiungeva al termine della salita. A Monte Marciano, sempre nelle Marche, i carabinieri hanno denunciato a piedi libero 4 persone per concorso in furto aggravato e continuato di energia elettrica. Si tratta di 4 pregiudicati residenti a Monte Marciano. A seguito di una segnalazione, i militari hanno appurato che avevano abusivamente attinto energia elettrica dal contatore dell'abitazione di un residente in via Adige. Cambiamo argomento, andiamo a San Benedetto del Tronto. Una villa abbattuta per metà che resta come un rudere al centro del lungomare della Riviera delle Palme. Lo strano caso di Villa Petrocchi, il cui abbattimento è stato bloccato da una discussa decisione della soprintendenza della Regione Marche. Vediamo il servizio di Pierpaolo Flammini e Arianna Cameli. Rischia di diventare un rudere quel che rimane di Villa Petrocchi, qui sul lungomare di San Benedetto. Il 23 aprile delle Ruspe avevano iniziato la demolizione, ma a metà di questo intervento si sono fermate perché sono arrivati i carabinieri su ordine della soprintendenza della Regione Marche che ha posto sotto sequestro l'immobile ed ora si apre veramente un caso politico. Ora la sorte di Villa Petrocchi è nelle mani della magistratura, con il destino dell'immobile di Viale Marconi, tutto da valutare. C'è stato un sequestro, ha detto l'assessore all'urbanistica Paolo Canducci, e la pratica seguirà un percorso indipendentemente dalle volontà del Comune e della stessa soprintendenza. La storia è nota, mercoledì mattina i carabinieri del nucleo di Ancona hanno bloccato il cantiere sul lungomare Nord, dove si stavano avviando i lavori per la trasformazione dell'edificio in una nuova struttura chiamata ad ospitare appartamenti e garage. Possiamo solo prendere atto di ciò che è successo, non possiamo fare altro, ha proseguito l'assessore Canducci. I tempi non li conosco, di solito un sequestro viene convalidato o annullato. Il decreto di vincolo sarebbe stato firmato dalla sovrintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle Marche lo scorso 7 aprile, ma va capito se la lettera sia mai stata segnalata al Comune. Bisogna vedere quando è arrivata e soprattutto se c'era scritto entro quando doveva essere notificata al destinatario, ha osservato ancora l'assessore, continuando «Spero per la sovrintendenza che l'abbia fatto. Quando si invia un atto urgente si dovrebbe agire così». Sul fronte della proprietà la difesa è sempre la stessa, ovvero che l'intervento di ristrutturazione è stato inaugurato al primo giorno utile, in quanto non in possesso di disposizioni in senso opposto. Il 23 dicembre scorso il sovrintendente Stefano Gizzi aveva scritto una lettera indirizzata alla padrona e al sindaco Gaspari, nella quale informava di aver avviato la procedura di tutela del manufatto. Si trattava di una seconda comunicazione, dopo una valutazione di quattro mesi avviata il 26 agosto, conseguente al permesso a costruire e concesso dall'Ufficio Tecnico Comunale nel gennaio 2013. L'iter venne quindi dilatato di ulteriori 120 giorni, con la scadenza prevista per il 22 aprile 2014. Andiamo a Teramo, torna attuale il problema del malfunzionamento di un ascensore in una palazzina Ater in un alloggio popolare del quartiere di Colle Atterrato, con l'intervento dei Vigili del Fuoco di questa mattina al Civico 21 di via San Luca. L'aiuto dei pompieri è stato necessario per il personale del 118 per far rientrare in casa una paziente diversamente abile che abita al terzo piano. Ancora una volta si è dunque fatto ricorso ad un intervento di emergenza per trovare soluzione ad un increscioso disservizio di cui esempio più recente è la vicenda di Ligliana, malata di Sla, del suo disagio. è scaturita una protesta popolare con tanto di sciopero della fame per sensibilizzare l'ente proprietario delle case di residenza pubblica ad un intervento risolutivo che però ancora manca. E ora parliamo di 25 aprile. Oggi ricorre infatti il 69esimo anniversario della liberazione d'Italia dal regime, dall'occupazione nazifascista. È un giorno dedicato alla memoria e alla riflessione, celebrazioni e commemorazioni in tutto l'Abruzzo e nella provincia di Teramo. Ovviamente per non dimenticare. Vediamo. Il giorno della memoria e della riflessione. Il 25 aprile, data storica della liberazione d'Italia dal nazifascismo e della fine di una guerra che travolse l'Italia, l'Abruzzo, la provincia di Teramo. La festa della liberazione vuole essere il richiamo ai valori della libertà e della resistenza attiva e silenziosa ai valori della patria e della democrazia che si incarnano nel percorso democratico deciso, voluto e difeso dagli italiani nelle tre date storiche del 25 aprile, del 2 giugno del 46 e del 18 aprile del 1948. Siamo giunti al 69esimo anniversario. Era infatti il 25 aprile del 1945. E tante sono le celebrazioni in provincia per tramandare il ricordo anche nelle giovani generazioni. Il ricordo dei partigiani, della brigata Maiella, dell'eccidio di Bosco Martese che diede in là alla resistenza a Teramo, subito dopo l'armistizio del governo Badoglio, l'8 settembre del 43. Da quella data nascono infatti le prime forme di resistenza nelle varie città, dove gruppi di persone di diverso orientamento politico si riuniscono per determinare le forme di lotta, piccoli marginali episodi quali lo strappare i manifesti degli editti dei muri. Si accompagnano ad altre iniziative, agli aiuti in ospedale, soccorso e rifugio per i clandestini. Si può dire che dopo l'episodio di Porta San Paolo a Roma, dove i militari italiani hanno un conflitto a fuoco con i reparti tedeschi, la resistenza militare nasce in Abruzzo e quindi in Italia. Ad iniziare la guerra partigiana sono distaccamenti di piccoli gruppi autonomi, solo in seguito essi verranno organizzati in nuclei, squadre e brigade di 45-50 uomini formate da ex militari ufficiali, per un totale di circa 4.800 combattenti. Ma come non ricordare la Quinta Armata americana e l'Ottava Armata inglese, che furono i principali artefici rispettivamente dal Tirreno e dall'Adriatico, della liberazione d'Abruzzo. Oggi dunque è tutto un riaffiorare di ricordi e onori tra Teramo, Martinsicuro, Giulianova, Roseto e altri luoghi della provincia. A Teramo con la deposizione della corona dall'oro presso il monumento ai caduti di tutte le guerre, poi con le celebrazioni presso la villa comunale, dove saranno commemorati gli eroi terramani, Alberto Pepe, Mario Capuani, Berardo D'Antonio e Romolo di Giovanni Antonio, caduti proprio a Bosco Martese. A Roseto il 25 aprile si festeggia invece in bicicletta, un evento ormai immancabile per ricordare i luoghi e le storie di resistenza della città. Commemorazioni anche a Giulianova e Martinsicuro, organizzate dall'AMPI, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, pronti per il prossimo anno a festeggiare i 70 anni della liberazione d'Italia. E commemorazioni per il 25 aprile anche ad Ascoli Piceno, medaglia d'oro per la resistenza. Vediamo. Come ormai consolidata tradizione, la provincia insieme al Comune di Ascoli Piceno e l'Associazione Nazionale Partigiani Italiani provinciale, ha organizzato alcuni momenti per celebrare il 69esimo anniversario della liberazione e il 66esimo anniversario della Costituzione. La giornata di venerdì 25 aprile è iniziata alle 9 con la deposizione della corona dinanzi al Palazzo del Governo in Piazza Simonetti. Da lì quindi il corteo dell'autorità civile e militare ha raggiunto Piazza Roma dove alle 9.15 è stata deposta una corona sul monumento ai caduti. Le autorità si sono poi trasferite a Cole San Marco dove prima della deposizione della corona sul Cippo e sul Sacrario ai caduti per la resistenza e la resa degli onori ai caduti hanno preso la parola ai rappresentanti delle istituzioni, ovvero il prefetto di Ascoli Piceno Graziella Patrizzi, il presidente della provincia Piero Celani, il sindaco di Ascoli Guido Castelli e il presidente del Comitato Provinciale Ampi William Scalabroni. Proprio Scalabroni in merito alle svastiche comparsi in queste giorni in città afferma Alcuni nostalgici vogliono risuscitare il fascismo ma noi siamo attenti, reagiremo istituzionalmente e con forza Facciamo già da anni opera di sensibilizzazione nelle scuole come ultimamente al liceo classico Chi fa questi gesti deve smetterla Ormai il nazifascismo è finito, è morto e sepolto Una reazione popolare le ha già sconfitti 69 anni fa Questi sono rigurgiti che non devono più esserci in una città medaglia d'oro alla resistenza E a 70 anni dalla liberazione di San Benedetto del Tronto con una riflessione sulla storia della resistenza locale in particolare sulle figure degli uomini e delle donne che persero la vita per la libertà stamani in Largo Norati si è celebrato l'anniversario della liberazione d'Italia La cerimonia istituzionale hanno preso parte autorità civili e militari cittadini provinciali e regionali dei comuni del comprensorio di Patranzone, Monteprandone, Grotta a Mare e Cupra Marittima le associazioni degli ex combattenti e d'arma Lampi e tantissimi cittadini dopo l'esecuzione dell'indo di Mameli da parte del corpo umbandistico città di San Benedetto il sindaco Giovanni Gasperi ha sottolineato la necessità di stare vicini a tutti coloro che hanno perso i familiari a causa della furia del nazifascismo Il presidente della regione Marche, Gian Mario Spacca ha partecipato alla cerimonia del 25 aprile a Castel di Lama il senso di questa giornata è come ricordava spesso Papa Giovanni Paolo II la pace che va conquistata giorno per giorno ma non è mai definitiva dice lo stesso Spacca che poi ha aggiunto e lo stesso vale per gli altri valori la libertà, la giustizia, la solidarietà, la democrazia che appartengono alla grande tradizione della resistenza e della lotta di liberazione dal nazifascismo affinché essi siano riaffermati e non rimangano lettera morta perché non siano semplicemente una bandiera da sventolare in giornate come questa ma siano vissuti ogni giorno è necessario che vengano collegati alla realtà e alla vita di una comunità questo può essere fatto attraverso i giovani e la conoscenza della nostra Costituzione che declina e afferma con chiarezza tali valori e andiamo a Teramo Teramo Nostra con la collaborazione della Proloco di Bellante la Proloco di Ripattoni del patrocinio del comune di Mociano e di Bellante il prossimo 30 aprile collocherà la presenza delle autorità e delle scolaresche una lapide commemorativa in onore di Aurelio Saliceti presso il liceo classico Melchiorre Delfico dopo più di 150 anni verrà testimoniata la sua presenza prima come allievo e dopo come docente di Real Collegio si ritiene rimarcare il grande valore che ha questa manifestazione si legge in una nota a volta a far conoscere a tutti la figura di un veramente grande e importante concittadino troppo spesso messo all'angolo e dimenticato Aurelio Saliceti insigne conterraneo giurista triunvero illustro difensore del pensiero repubblicano di Giuseppe Mazzini partecipe coraggioso all'adesione del governo della Repubblica Romana del 1849 padre antelitteram della patria attuale il più importante stilatore della prima Costituzione romana dalla quale è scaturita l'ossatura dell'attuale nostra Costituzione e ora passiamo alla politica alle elezioni ultime ore prima del termine per la presentazione delle liste per le comunali del 25 maggio la situazione si va progressivamente delineando i dubbi ancora da sciogliere riguardano Tortoreto nel centro-destra Santomero mentre a Sant'Egiglio potrebbe materializzarsi addirittura un quinto candidato vediamo meno di un giorno poi tutte le situazioni ancora indefinite dovranno chiarirsi in un senso o nell'altro scade domani alle 12 il termine ultimo per la presentazione delle liste nei comuni chiamati al voto il prossimo 25 maggio i grandi centri della provincia di Ramana da tempo hanno messo le loro forze in campo e gli schieramenti sono già delineati a Teramo correranno in sei il sindaco uscente Maurizio Brucchi Manola Di Pasquale per il centro-sinistra poi i movimenti civici guidati rispettivamente da Gianluca Pomante Graziella Cordone poi c'è il Movimento 5 Stelle con Fabio Berardini e Berardo Rabuffo l'ultimo in ordine di tempo che si è aggiunto al trappello dei duellanti situazione chiara anche a Giulia Nova nutrita infatti la pattuglia degli sfidanti al sindaco Francesco Mastromauro nell'area di centro-sinistra concorrono Nino Bertone per gente in comune Franco Arboretti per il cittadino governante i 5 Stelle schiera Margherita Trifoni mentre nel centro-destra ci sono tre pretendenti Laura Ciafardoni per Forza Italia il nuovo centro-destra Gianluca Antelli e Fabrizio Rettico per Giulia Nova la stessa cosa non può dirsi nel resto dei comuni chiamati al voto dove le ultime ore sono ancora pervase da un alone di incertezza esempio tipico è quello di Tortoreto dove alcuni nodi soprattutto nel centro-destra ancora non sono stati sciolti entro stasera dovrebbe essere ufficializzata la candidatura al sindaco di Alessandra Ricchi resta fuori l'area legata a Francesco Marconi mentre già pronti ai nastri di partenza ci sono Flaminio Lombi per il centro-sinistra e Luca Palanca per il Movimento 5 Stelle che stamattina ha già presentato la lista in comune già definito da tempo il quadro a Corropoli, Nereto, Torano ed anche a Nancarano dove la democratica Piera Di Giosia sfiderà il sindaco uscente Pierangelo Panichi dovrebbe essere chiaro anche il quadro a Sant'Egidio dove al momento gli sfidanti sono quattro Rando Angelini sindaco uscente Elicio Romandini ex assessore provinciale Gabriele Di Bonaventura per il PD e Barbara Benucci per i 5 Stelle mentre nelle ultime ore è annunciata anche la formazione civica guidata dall'avvocato Perardo Di Simplicio ore decisive anche a Sant'Omero dove è ufficiale la ricandidatura del sindaco uscente Alberto Pompizzi che dovrebbe sfidare il giovane avvocato Andrea Luzzi anche in questo caso per mettere il punto bisognerà attendere comunque domani Torniamo alla cronaca per una notizia dell'ultima ora incidente agricolo mortale incontrata a Aquila nel comune di Ortona nel Chietino a causa del ribaltamento del trattore un 55enne di Ortona è morto schiacciato dal mezzo i soccorsi immediati grazie all'arrivo dell'elicottero del 118 da Pescara e di una unità terrestre dal distretto sanitario di Ortona purtroppo sono stati inutili sulle cause del ribaltamento indagano i carabinieri della locale compagnia e torniamo alla politica tutto pronto nelle file della maggioranza uscente che scenderà in campo con la lista civica Buongiorno Cupra con Domenico D'Annibeli che proverà a fare il bis per la carica di sindaco schierando volti noti della maggioranza insieme a forze fresche si legge in una nota stesso simbolo, stesso capolista ma molti volti nuovi, motivati e professionalmente validi per proseguire il mandato governativo assicura Domenico D'Annibeli abbiamo bisogno di portare a termine un lavoro iniziato 5 anni fa tutti i settori hanno visto un lavoro all'acre che ha portato miglioramenti sostanziali e sarà Stefano Ciampini invece avvocato nato ad Ascoli ma residente nel comune di Monte Prandone a guidare la lista civica a partecipare per cambiare il movimento proposto dall'ex assessore ai lavori pubblici Marino Lattanzi e dal consigliere di minoranza Stefano Barbizzi che furono i primi a lanciare questa idea nell'estate scorsa la lista sarà composta da varie personalità del mondo dell'associazionismo e delle società civili che troverà l'appoggio anche di Selle e Rifondazione che dunque si sono defilati dalla lista del sindaco Stracci e ancora elezioni domenica 27 aprile a Giulianova ci sarà la presentazione della lista civica Giulianova per Retco saranno presenti assieme al candidato sindaco Fabrizio Retco gli assessori regionali Giandonato Morra e Mauro di Dalmazio in occasione della conferenza stampa verrà spiegato il significato del simbolo adottato per questa elezione la scelta del nome Giulianova evidentemente richiamo alla città rinascimentale ricostruita dagli Acquaviva nel 400 e ancora Ancarano per le elezioni comunali del 25 maggio in una nota stampa si informa che è stata presentata la lista civicamente Ancarano che concorrerà alla guida dell'amministrazione cittadina la candidata sindaco è Pierangela Di Giosia è formalizzato anche l'elenco dei candidati consiglieri e ora cambiamo argomento e andiamo nelle marche in arrivo tre nuovi bandi per la pesca sono oltre 300.000 i fondi a disposizione i finanziamenti cui si può accedere arrivano dal Fondo Europeo per la pesca vediamo il comitato di gestione del gruppo d'azione costiera Marche Sud ha predisposto tre nuovi avvisi pubblici per la presentazione di stanze di contributo per il periodo 2013-2015 da parte di associazioni e imprese con sede legale e o amministrativa nei comuni del GAC Marche Sud San Benedetto del Tronto, Grotta a Mare, Pedaso, Porto San Giorgio, Civita Nova Marche e Porto Recanati nello specifico i tre bandi erogati riguardano interventi per la promozione integrata delle eccellenze del territorio iniziative di diversificazione, diffusione delle tecnologie a basso impatto ambientale e di nuove tecniche di pesca nel settore ittico l'importo complessivo delle risorse è di 323.550 euro cioè 107.850 euro per ciascuna iniziativa condotta da soggetti privati i finanziamenti cui si può accedere derivano dal Fondo Europeo per la pesca si tratta di risorse che l'Unione Europea eroga per favorire lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca aiutando la comunità a creare nuove fonti di reddito e migliorare la qualità della vita attraverso l'attuazione di una strategia di sviluppo locale che coinvolga il territorio è possibile scaricare i documenti ufficiali nella sezione è possibile scaricare i documenti ufficiali nella sezione bandi di gara avvisi pubblici del sito del Comune di San Benedetto o nella sezione bandi e pubblicazioni del sito del GAC Marche Sud il termine ultimo della presentazione delle domande è fissato alle 13 di venerdì 13 giugno rimaniamo nelle Marche con la nuova programmazione comunitaria nelle campagne della provincia Picena dovrebbero arrivare oltre 150 milioni di euro è quanto stima la Coldiretti Ascoli Fermo che ha organizzato a Ripatransone un incontro per presentare le novità della nuova politica agricola comune l'iniziativa rientra nell'ambito delle manifestazioni promosse dal Comune per la festa in onore della Madonna di San Giovanni nel corso dell'incontro sono state trattate le principali linee della nuova programmazione della condizionalità al greening un tema particolarmente sentito dalle imprese agricole perché la PAC può rappresentare un volano importante di sviluppo sostenendo gli investimenti per creare reddito e lavoro tra l'altro i probabili 150 milioni andranno aggiunti 538 milioni a disposizione a livello regionale con il prossimo piano di sviluppo rurale delle Marche che rappresenta la parte della politica comunitaria dedicata agli investimenti da parte delle aziende e andiamo a San Benedetto del Tronto un progetto che coinvolge una cooperativa e il Comune stesso si tratta di un centro del riuso nel quale i cittadini potranno conferire oggetti di vario genere che una volta sistemati potranno essere nuovamente acquistati e venduti vediamo il servizio di Carlo Fazzini e Arianna Cameli In contrada a Monterenzo a fianco all'attuale centro di raccolta di rifiuti è pronto ad essere inaugurato il nuovo centro del riuso che utilizza fondi europei e che permetterà agli utenti di conferire oggetti mobili e quant'altro non utilizzano in casa per poter poi essere utilizzati da nuovi utenti che ne hanno bisogno Il centro di riuso di San Benedetto nasce con la partecipazione del Comune di San Benedetto a Prisca, un progetto europeo finanziato nel programma Life Ambiente e che si propone per l'appunto di sperimentare dei centri di riuso uno a San Benedetto del Tronto e uno a Vicenza I centri di riuso sono quei luoghi che accolgono i beni che le persone non utilizzano più ma che sono ancora in buono stato sono ancora in grado di assolvere la loro funzione e di essere utili per altre persone Sono tanti i beni di questo tipo che si trovano nelle nostre soffitte, nelle nostre cantine che portiamo nei centri di raccolta comunali o che spesso ci portano a chiamare l'azienda di igiene urbana per chiedergli di ritirarli a casa La cooperativa che gestirà il centro di riuso di San Benedetto del Tronto si occuperà di intercettare tutti i beni in buono stato e lavorarli all'interno del centro di riuso per metterli nuovamente a disposizione attraverso il proprio showroom oppure attraverso la vendita all'ingrosso ad altri operatori dell'usato I cittadini interessati a fornire i propri beni al centro di riuso di San Benedetto del Tronto possono chiamare un numero telefonico scrivere all'indirizzo email predisposto oppure recarsi direttamente al centro di riuso che è adiacente al centro di raccolta comunale anche semplicemente andando al centro di raccolta comunale loro incontreranno sia il personale della cooperativa ma saranno anche gli stessi addetti della vicina ambiente che indicheranno di andare verso il centro di riuso per depositare i beni che possono avere ancora una seconda vita è esposta da oggi presso la cappella del centro giovanile Giovanni Paolo II di Montorso di Loreto una reliquia di Papa Voitila che sarà canonizzato domenica insieme a Papa Roncali si tratta di sangue prelevato prima del decesso e conservato in un reliquiario artistico in forma di testo sacro realizzato da Carlo Bagliana sarà possibile venerare la reliquia fino a domenica rimaniamo nelle Marche a Moresco festa per la riapertura della chiesa Santa Maria dell'Olmo per la delle colline fermane domenica 27 aprile alle ore 10.30 ci sarà l'ormai tradizionale appuntamento con la scampagnata Santa Maria dell'Olmo la festa si svolgerà nel giardino dietro alla chiesa a poco sotto il centro storico alle 12 l'apertura degli stand gastronomici si potrà degustare un ricco assortimento di prodotti tipici nel pomeriggio si continuerà con i giochi popolari della tradizione contadina quest'anno vi sarà poi un avvenimento speciale dopo più di dieci anni verrà riaperta appunto la chiesa di Santa Maria dell'Olmo scrigno prezioso che custodisce al suo interno un'edicola religiosa affrescata da Vincenzo Pagani e andiamo ad Ancona la fiera di San Ciriaco torna ad utilizzare tutto il viale della Vittoria poi giù fino in fondo a Corso Garibaldi dopo le restrizioni dell'anno precedente dovute ai lavori in corso e alla chiusura della galleria risorgimento la manifestazione più amata dagli anconetani si riappropria degli spazi alle più consoni dal primo al 4 maggio bancarelle e stand gastronomici affolleranno dunque la spina centrale del viale della Vittoria ma anche le corsie laterali e poi largo 24 maggio Piazza Cavour, Corso Garibaldi Piazza Roma e Piazza Pertini la pineta del passetto verrà invece lasciata libera quest'anno ci saranno in totale 501 espositori che terranno gli stand ininterrottamente aperti dalle 8.30 alle 24 e gli ambulanti che saranno la categoria predominante se ne conteranno infatti 361 occuperanno Piazza Cavour e il viale della Vittoria e andiamo a Civitella l'esposizione Dipingere il tempo del maestro Duccio Di Monte è stata inaugurata nel pomeriggio all'interno della fortezza di Civitella la mostra documenta attraverso l'opera pittorica l'ormai storico percorso di ricerca espressiva di uno dei maggiori esponenti dell'arte italiana contemporanea protagonista peraltro da molto tempo sulla scena internazionale le circa 50 opere esposte realizzate negli ultimi 30 anni con i vari procedimenti plurimaterici testimoniano esemplarmente l'assoluta assenza di gerarchie espressive nell'opera di Di Monte perché in ciascuno di questi procedimenti l'artista riesce a manifestare autonomamente e compiutamente il suo intenso ed affascinante mondo immaginativo e andiamo ad Ascoli Piceno è stata inaugurata in Piazza Ringo ad Ascoli appunto la rassegna enogastronomica Fritto Misto che compie 10 anni di vita che proseguirà fino al prossimo 4 maggio Fritto Misto è una ricchissima vetrina di ricette nazionali e internazionali dedicate alle bontà dorate l'evento quest'anno presenta numerose novità a partire dalla durata della manifestazione lunga 10 giorni e la presenza di 4 titolati chef che per l'occasione proporranno menù 10 e lode in merito al traguardo del decennale è stato inoltre realizzato il libro contenente le più famose ricette proposte nei 10 anni della rassegna rimaniamo ad Ascoli ma questa volta parliamo di sport al termine del campionato si appresta a disputare una serie di amichevoli nella provincia Picena parliamo ovviamente del picchio dell'Ascoli Calcio il presidente Francesco Bellini traccia un bilancio della sua gestione e non conferma le voci sul prossimo allenatore della squadra bianconera vediamo è stata presentata presso la sala conferenze della sede dell'Ascoli in corso Vittorio Emanuele il programma di amichevoli del mese di maggio della squadra bianconera il picchio in tour si chiama l'iniziativa presentata dall'associazione solo per l'Ascoli associazione di tifosi presenti anche alla conferenza stampa in sede le volevo chiedere per le tour di amichevoli estive diciamo dell'Ascoli qual è il motivo cioè l'avvicinamento ai tifosi è importante per voi per la società guarda quello che hanno fatto è fantastico va bene di far ritornare alle radici di ritornare vicino a questi queste persone personaggi che venivano allo stadio prima da tutte tutte le parti qui intorno nell'Ascolano e adesso questo è quello che facciamo andiamo là facciamo vedere se è una nuova società e cerchiamo di riportarli con noi anche perché ci sono tantissimi club nel Piceno e anche nel Fermano quindi per l'Ascoli è sicuramente importante a livello tecnico per l'allenatore e per i giocatori sapere anche chi rimarrà l'anno prossimo non soltanto questo va bene ma anche guardare in giro che cosa c'è va bene è sempre importante di vedere se ci sono dei buoni soggetti che potrebbero venirsi con noi e questa è un'altra ragione per cui lo facciamo ma la ragione principale te l'ho detta prima è di dire grazie a tutte queste persone che ci hanno seguito per molti anni per un bilancio diciamo di questa sua stagione ad Ascoli da quando è arrivato è contento per la città per i tifosi per lei stessa guarda io sono non contento molto contento soprattutto dalla reazione dei tifosi però ci sono tante tante cose da fare ci sono state tante di quelle sorprese immaginabili e ci sono le persone che ti aiutano le persone che cercano di sabotarti allora bisogna essere sempre vigilanti comunque la maggior parte sono delle persone brave sarà chiamata Ascoli Picchio 1898 FC Football Club questo è quello il nome che era stato deciso ma il marchio non pensare che sia drammaticamente differente dall'altro sarà molto simile e ridarà molto al primo marchio che è stato messo e purtroppo c'è un nuovo aggiornamento di cronaca giovane centauro di 24 anni di penne nel pescarese ricoverato in coma all'ospedale di Pescara dopo essere rimasto vittima con la sua moto di un incidente durante il Super Mare Cross 2014 la competizione nazionale di moto da cross su sabbia disputato a Francavilla al mare valido per il terzo round il 24enne secondo una prima ricostruzione avrebbe perso da solo il controllo della sua moto su un avvallamento della spiaggia ed ora vediamo che tempo farà domani buonasera e benvenuti all'appuntamento delle previsioni del meteo per sabato 26 aprile nel corso della prossima notte a caso dell'arrivo di questa perturbazione atlantica avremo un tempo in peggioramento a nord-est e nel centro-sud vediamo la grafica della nostra penisola per quanto riguarda la giornata di sabato avremo tempo bello a nord-ovest e in Sardegna mentre per tutto il resto d'italia il tempo sarà caratterizzato da cieli coperti con rovesci temporali passiamo ora a vedere le previsioni per Marche e Abruzzo nella giornata di sabato il cielo sarà coperto con rovesci temporali soprattutto nelle ore pomeridiane per quanto riguarda le temperature le massime pomeridiane si manterranno intorno ai 18-19 gradi grazie per l'attenzione e buona serata il nostro telegiornale finisce qui noi vi ringraziamo come sempre per la cortese attenzione vi diamo appuntamento a domani con una nuova edizione di G News la prima alle ore 14 la seconda alle ore 19 a tutti una buona serata grazie a tutti